24 ottobre 2021 Gli occhi dell'anima Per l'angelo secondo Marco capitolo 10 In quel tempo mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla Il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare Sentendo che era Gesù Nazareno cominciò a gridare e a dire Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me Molti lo rimproveravano perché tacesse Ma gli gridavano ancora più forte Figlio di Davide, abbi pietà di me Gesù si fermò e disse Chiamatelo Chiamarono il cieco dicendogli Coraggio, alzati, ti chiama Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù Allora Gesù gli disse Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose Rapunì, che io veda di nuovo E Gesù gli disse Va, la tua fede ti ha salvato E subito vide di nuovo E lo seguiva lungo la strada Martimio ci mostra una fede che sa guardare oltre La vista degli occhi Egli conosce Gesù Lo attende Non sa come incontrarlo Forse sarebbe passato per quella strada di mercanti e viaggiatori All'uscita della città Ma il suo cuore spera e attende Fino a che la speranza si avvera Gesù passa di là La fama del Messia lo aveva raggiunto E Gesù passa per la sua strada Passa per la sua vita Ed ecco che Bartimio grida forte Importuno Visto che le sue grida Infastidivano molti Ma perché infastidiva? Il suo grido era Una professione di fede piena Non nell'abilità di Gesù Ma nella sua messianicità Figlio di Davide, santo Il Messia atteso Che distribuiva la misericordia di Dio Il perdono dei peccati Guariva gli ammalati E cacciava i demoni Egli era quello che Aveva visto Zaccheo Il pubblicano E lo aveva chiamato E Zaccheo si era convertito Era stato perdonato Dai suoi peccati Gesù esce dalla città E Bartimio spera tanto Perché quello è il passaggio Appena il rumore della folla Che seguiva Il maestro lo segnala Ecco che comincia a gridare Di essere peccatore Di sperare nel figlio di Davide La sua coscienza affinata Nella sofferenza Per la perdita della vista Non lo fa a gridare All'ingiustizia Ma alla misericordia In quanto peccatore Solo chi si rassegna Alla propria sorte E con profondità spirituale Comprende che tutto è Nelle mani di Dio Che dispone comunque Per il meglio Per la santificazione Nella purificazione La purificazione dell'uomo Bartimio appunto Crede Accetta Ma anche spera Non tanto nella giustizia Di chi ha ricevuto Un torto dalla vita O da Dio Ma nella concessione Di una grazia Verso l'uomo peccatore La folla non ha invece Ben compreso Gesù E il suo amore Per i poveri I derelitti Pecatori E tutti quelli Che la sorte in fausta Indicava come colpiti Dallo sdegno divino Zaccheo era pubblicano Eppure Gesù Lo aveva cercato Il cieco Forse è colpito Per i suoi peccati Eppure Gesù Lo chiama E il cieco È condotto a lui Chiedi di riavere la vista Segno di poter stare ancora Al cospetto di Dio Poiché la grazia Indica una concessione Del favore di Dio Della sua attenzione E della sua amicizia A sentirsi chiamare Un tutt'uno Il balzo in piedi E il gettare il mantello La cosa più preziosa Per un uomo Esposto alla povertà Tutto lascia Con gioia fiduciosa Perché Gesù Può esaudirlo E donargli la vista Ma per Bartimeo Guarito La gioia Non è quella Di tornare Alla propria vita Ma si mette a seguire Gesù Per la strada Non riesce A staccarsi da lui La gratitudine Certo Ma molto di più L'attrazione Per la persona Che aveva popolato La sua immaginazione E dei suoi sogni Di incontrarla Il cieco Ha riavuto La vista materiale Ma quello che attrae È Gesù Che aveva conosciuto Con gli occhi Dell'anima La fede lo salva E guarisce Gli ottiene il perdono Nient'altro C'è di più importante Ora Così Bartimeo Ci insegna Che nelle situazioni Più tristi E difficili Mai siamo soli O abbandonati Ma il Cristo È con noi Perché si è fatto prossimo Con la sua umanità Solo se ci lasciamo Ingannare Dalle necessità materiali E lasciamo che esse Ci avvolgano Con le preoccupazioni E l'ansia della vita Allora Rimaniamo Ciechi Dentro Gli occhi della fede Non vedono I nostri problemi materiali Diventano Le montagne Che ci schiacciano Di fronte a Gesù In tale stato di buio Non vediamo altro Che il nostro problema E Gesù È colui Che lo può risolvere Ma così O tenebrati Non vediamo Che Gesù È la fonte Della vita interiore E non la soluzione Dei problemi Non comprendiamo Che Lui È tutto E noi siamo nulla Che Egli Ci introduce Nella luce E noi siamo Tenebra Se anche Dio Ci concedesse La soluzione Di tutti I nostri problemi Ma non avessimo La fede E l'amore per Lui Noi rimarremo Sempre nel buio Non capiremmo Come molti Della folla Che seguiva Gesù Ma non aveva La fede E l'amore Riconoscente Di Bartimeo Dio vi benedica